Ben trovati, sono il dottor Michele Labbianca, coordinatore della Task Force Coronavirus della Regione Basilicata. I dati riferiti al 15 febbraio, già diffusi dal bollettino della Regione Basilicata, indicano che dai laboratori presso strutture ospedaliere pubbliche convenzionate della Regione è stato processato un numero di 1.058 tamponi per un totale complessivo di 224.230 tamponi molecolari effettuati dall'inizio dell'epidemia, ai quali si aggiunge un totale di 6.225 test antigenici rapidi effettuati alla data della rilevazione. Per quanto riguarda i test molecolari, le positività totali riscontrate sono state 83 e di queste 79 si riferiscono a soggetti residenti in Regione. Una positività a un soggetto non residente ma domiciliato in Basilicata, tre a soggetti non residenti in isolamento nelle rispettive regioni. Il totale dei positivi della giornata presi in esame vede una leggera prevalenza di soggetti di sesso maschile rispetto a quelli di sesso femminile. L'età media nel sesso femminile è risultata pari a 45 anni, a differenza che nei soggetti di sesso maschile nei quali l'età è risultata inferiore intorno ai 41 anni. Tra i casi positivi della giornata presi in esame si riduce dievemente al 18% la percentuale dei soggetti nella fascia d'età 0-20 anni, sempre più rappresentata al 65% la fascia d'età tra i 21 e i 64 anni, mentre si mantiene contenuto nella giornata esaminata al 18% l'interessamento degli ultra 65 anni. I principali indicatori danno la situazione di rischio moderato per la regione. La percentuale di incremento dei nuovi casi negli ultimi sette giorni nella regione Basilicata sale al 4,4%, percentuale superiore al dato nazionale che è del 3,3. La proporzione test positivi sul numero totale dei test effettuati che testimonia la circolazione del virus sul territorio regionale è del 7,6%. In sintesi, il numero dei casi nella regione tende ad aumentare e nello stesso tempo l'incidenza, cioè le nuove positività per Covid-19 per 100.000 abitanti, riferita agli ultimi 14 giorni, che rimane intorno ai 180 casi positivi su 100.000 abitanti, comunque inferiore rispetto alla media nazionale di 280 casi su 100.000 abitanti. E infine l'indice di contagio RT riferito agli ultimi 14 giorni che è l'indice più stabile è pari a 0,99, valore inferiore al limite di 1 oltre che al dato nazionale. Per quanto riguarda i casi positivi per Covid-19 nella regione Basilicata, 55 sono attribuiti alla provincia di Potenza e di questi 4 interessano il capoluogo. I rimanenti 51 sono distribuiti in 11 comuni della provincia. 24 positività sono attribuite alla provincia di Matera e di queste 9 interessano la città di Matera. Le rimanenti 15 sono distribuite in 5 comuni della provincia. Anche per il bollettino odierno le positività sono dovute alla presenza di focolai sul territorio, segno del predominante coinvolgimento della popolazione generale. Il costante monitoraggio delle strutture già sede di focolaio da parte delle aziende sanitarie territorialmente competenti non segnala casi di positività per Covid-19 in nuove residenze sanitarie per anziani. Il totale dei ricoverati presso strutture ospedaliere Lucane Covid dedicate sale a 79 pazienti e di questi 7 sono ricoverati nei reparti di terapia intensiva, 4 a Potenza e 3 a Matera. Comunque nella regione si mantiene la riduzione del tasso di occupazione dei posti letto, specie di quelli in terapia intensiva, comunque al di sotto dei livelli di guardia. I guariti residenti nella giornata esaminata sono 53, portando il numero complessivo dei guariti residenti a 10.368 soggetti. I positivi totali residenti sono 3.238, mentre quelli in isolamento domiciliare sono 3.159. Prosegue la revisione degli ultimi dati menzionati da parte dei competenti servizi ospedalieri e territoriali. Nella giornata esaminata è stato registrato un decesso correlato a Covid-19. Trattasi di soggetto di 82 anni ricoverato presso l'ospedale di Matera. Il totale dei deceduti residenti per Covid-19 nella regione Basilicata, la data odierna, è complessivamente di 343 soggetti. Da verifica effettuata al 9 febbraio, in ciascuno dei 131 comuni della regione, 71 sono risultati essere sede di focolaio attivo di Covid-19, con un numero complessivo di 2.106 soggetti positivi attivi. Di questi focolai, 54 sono situati nella provincia di Potenza e 17 in quella di Matera. In base a quanto descritto per positività dei tamponi eseguiti per ricoveri ospedalieri, potenzialmente vi sono possibilità che la situazione possa rapidamente evolvere verso un rapido aumento dei casi a livelli superiori alla situazione attuale, qualora non venissero rigorosamente rafforzate le misure di mitigazione a livello regionale. Anche alla luce della conferma della circolazione di alcuni varianti virali a maggiore trasmissibilità, è fondamentale che la popolazione eviti tutte le occasioni di contatto con persone al di fuori del proprio nucleo abitativo che non siano stettamente necessarie. È obbligatorio adottare comportamenti individuali rigorosi e rispettare le misure igienico-sanitarie predisposte relative a distanziamento e uso corretto delle mascherine, per cercare di arginare la tendenza all'aumento incontrollato dei casi positivi e il conseguente sovraccarico dei servizi sanitari. Ringraziandovi per l'attenzione, vi saluto e vi do appuntamento al prossimo intervento.